Il filetto di persico reale L'ago che viene impanato e poi cotto al burro e salto Persico reale di lago Viene sfilettato E' sempre crudo o è cotto? Crudo, perfetto Poi si mette nella farina bianca Nell'uovo, pane con formaggio Perfetto E nel pane grattugiato Poi si prende un padellino Si prende olio e burro con della salvia E si fa cuocere Per una porzione Quanti filettini? C'è grossi, c'è piccolini Diamo 10, 9, 8 Si serve anche abbinato a qualcosa? No E' indipendente Per cui adesso aggiungiamo Del sal Quando ha la sua doratura Va bene Vengono disposti nel piatto Un po' così a raggera Un po' a orologio E' anche la salvia Oppure la salvia è soltanto Anche la salvia? Sì, lo faccio Grazie Ciao 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 Grazie a tutti.